Mesi e mesi di lavoro vanificati dalla grandinata che si è abbattuta sulla provincia di Sernia, delusi gli agricoltori di Longano che speravano di raccogliere i frutti di una terra che coltivano con passione e dedizione. È venuta la grandinata e ha fatto il danno che si vede. Si vuole recuperare qualcosa? No, no, per niente proprio, si vede, agli occhi del solo. Senta, non soltanto pomodori, anche piante di olivo? L'oliva, l'oliva tante, tante. Fagioli, patate, ceci, zucchine, fruttioli, insomma, ormai non è rimasto quasi più nulla. Purtroppo no, dopo tanti mesi di duro lavoro siamo rimasti senza niente. A mortificare gli agricoltori non è tanto il danno economico quanto quello umano. La gioia di mettere a tavola cibo sicuro. Grazie. 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 Grazie.